Chiudere l'anno in bellezza, magari a quota 33 punti, sarà questo l'obiettivo della Virtus Franca Villa che mercoledì sera chiuderà il 2021 ospitando la nuova red arena, il Catanzaro. Contro i giallorossi all'andata non finì bene dal punto di vista del risultato, ma già in quell'occasione i ragazzi di mister Taurino avevano dimostrato tutte le loro qualità in campo con un atteggiamento propositivo, nonostante di fonte ci fosse una delle maggiori candidate alla promozione. Taurino certamente cambierà qualcosa rispetto all'ultima di campionato stravinta contro la Juve Stabia per 3-0. In avanti ad esempio tornerà a titolare Maiorino dal primo minuto che farà coppia con Perez. A centrocampo poi non è esclusa la riconferma di Mastropietro dopo la grande prestazione condita dalla doppietta contro le Vespe, ma il centrocampista Tarantino si gioca una maglia da titolare con il rientrante Ceccia. Un altro importante ritorno in mezzo al campo sarà quello di Prezioso che giocherà al fianco di Toscano e probabilmente Enian al posto del favorito in grosso. Nel Catanzaro poi non ci sarà il grande ex Federico Vasquez. L'attaccante argentino è stato espulso nel match di domenica contro la Vibonese per doppia munizione. Tornerà a Francavilla Fontana, ma questa volta soltanto come spettatore.